io non dico niente perchè è questo ok oggi facciamo dei disegni su quadri sui quadri? tu che disegni? a guarda di Sonic con un cappello e tu un teatro no non ho intenzione ho cambiato idea adesso voglio disegnare una cosa che non vi dico io disegno Sonic con un cappello dai noi iniziamo bisogna il Sonic con un cappello non so cosa sia però iniziamo dentro il cuore no 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 ok 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 ragazzi guardate il mio Sonic con il cappello si molto si molto che sorride questo è un sorriso cosiddetto così sembra un clown così sembra un clown questo cappellino mi sta facendo il sudore io sto ancora disegnando ma la ecco qui il Sonic ecco qui il Sonic ecco qui il Sonic adesso ragazzi ragazzi guardate adesso vado a colorare il Sonic l'arte è vita la vita è dolore e questo è un pennarello tu tu non devi dipingere il pennarello io userò il pennarello tu creerai l'arte benvenuto a petturare aiutare ok ragazzi prese un po di bianco facciamo i guanti di sogno io devo dipingere il mio capolavoro ma non guadagli state guadagli con quegli occhi ragazzi lo dico 3,2,1 è uno schifo sta già finito e chi dice che non è uno schifo si deve stare zitto ma se non sta dicendo niente allora cioè chi dice che non è uno schifo allora non si sta dicendo niente quindi non puoi stare di stare zitti se non stanno dicendo niente insomma se non avete capito lasciate perdere voi non potete capire questa è Parigi e tu parli in italiano però allora te ne devi andare non so qui è l'epicoturio devi parlare francese come te lo devo dire questo marmottic italiano non vorrei mai capire no guardate ho detto no è un ero troppo seppia ma sai cos'è la seppia 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 faccio così ragazzi per vedere se si seppia 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 è perfetto, è perfetto sto sbagliando ragazzi io sto andando a schifo usa venerdì più piccolo no, non può funzionare non mi piace non mi piace sapete qual è la mia tecnica, me la posso dire ok ragazzi, io me ne vado, ciao niente ok ragazzi, io me ne vado, ciao un'ultima cosa che Davide non ha messo la mia firma ehi, anche io l'avevo dimenticata un attimo, prendo una cosa ok ragazzi, noi vi sentiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo salutami, tecadoni, gustavo ciao andiamo a disporre con il museo prima io ciao 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 ciao